In Val Pescara, per combattere l'aumento dei furti negli appartamenti, è stato istituito, autorizzato dalla Prefettura, il progetto denominato controllo di vicinato. Ai cittadini, grazie a questo progetto, si chiede di segnalare alle forze dell'ordine la presenza di persone a automobili sospette. Il progetto è stato siglato nei giorni scorsi dalla Prefettura di Pescara con 10 comuni della Val Pescara. È un fatto di prevenzione, si tratta di questo, si tratta di far capire anche a chi viene in questi paesi che c'è l'attenzione e l'osservazione dei cittadini. Un po' come succedeva una volta quando un forestiero arrivava in un paese e subito gli si domandava chi sei, da dove vieni e che cosa vai cercando. Ai cittadini è stato detto ancora, non viene chiesto di sostituirsi alle forze dell'ordine ma di tenere semplicemente gli occhi aperti sul proprio vicinato e allertare carabinieri o polizia in caso di passaggi sospetti. Una prima risposta si è avuta potenziando qui il servizio dei carabinieri. Noi dopo i furti di dicembre, anche tramite il signor Prefetto, ma anche interloquendo direttamente con i vertici regionali dell'arma dei carabinieri, abbiamo chiesto che la nostra stazione fosse potenziata. E in effetti devo dire che abbiamo ottenuto riscontro su questo nell'ambito anche di un programma del comando regione carabinieri Abruzzo e Molise che ha inteso potenziare un po' tutto il territorio della provincia di Pescara per quello che mi consta. E quindi insomma un primo risultato in questo senso l'abbiamo ottenuto, certamente non ci fermeremo qui perché se sarà necessario noi chiederemo sempre e comunque l'attenzione delle forze dell'ordine sul nostro territorio. Dopo l'incontro in comune, per mettere a punto i dettagli, il prossimo passo sarà quello di individuare i referenti di zona che saranno i soggetti mediatori tra la comunità e le forze dell'ordine. La riunione si è svolta per illustrare a tutti i referenti, a tutti diciamo così, ad alcuni referenti delle nostre contrade questo protocollo. A loro volta lo illustreranno agli abitanti delle contrade e poi si organizzerà questo meccanismo, si metterà in piedi questo meccanismo ma volto appunto all'osservazione di quello che succede.